Pieno di feroci. Pieno panoramica di feroci, per favore. Puggerò anche il mio, allora. Vabbè, Anna. Mamma mia, che finocchione! Aspetta, aspetta, vediamo un po'. Ancora peggio! La girerà la fotocamera? La girerà la fotocamera! Aspetta qua! Girala! No, no, su questo non mi dici niente. È un bollettare! Girala! Girala se c'hai il coraggio! Ascolta, guarda, inquadra i tre portafogli sul tavolo pigni di farfalle, per favore. Eh? La tauromachia! Il ricchione migliore non mi guarda, però.